Salve, in questo incontro vedremo come rendere dinamiche o animate le schermate che abbiamo creato in precedenza. Le schermate che abbiamo creato in precedenza sono molto semplici, possono essere rese molto complesse dalla vostra fantasia e dai vostri bisogni, però sono ferme, non vengono quindi aggiornate dal programma man mano che scorre il tempo. Questo può essere utile, però è molto limitativo. Per questo adesso vedremo come Processing invece ci consente di creare delle schermate interattive e variabili. Per fare questo dobbiamo introdurre quella che è la struttura generale di un programmino dinamico in Processing. Creiamo quindi un nuovo sketchbook e cominciamo a scrivere quelli che saranno le tre parti fondamentali. Nella prima parte noi faremo quelle che gli informatici chiamano dichiarazione delle variabili, cioè presentiamo a Processing gli elementi con i quali dovrà giocare poi. Per l'esempio che abbiamo preparato per voi avremo bisogno di due numeri interi, le coordinate x e y con le quali disegneremo un rettangolo. Quindi diremo che vogliamo introdurre l'intero x, punte virgola, e l'intero y. Questi comandi che abbiamo appena digitato, int x, punte virgola, int x, y, punte virgola, dicono a Processing che da questo momento in avanti ci riferiremo a due numeri interi chiamandoli con x e y. Il blocco successivo che andiamo a introdurre è quello che gli informatici chiamano metodo, non è importante chiamarlo, ma serve a inizializzare il nostro applicativo. Si tratta di un metodo molto semplice che si introduce con queste parole magiche, void, setup, aperta parentesi graffa, chiusa parentesi graffa. Dentro le il corpo definito dalle parentesi graffe, c'è lo spazio dove scrivo le istruzioni per dare l'inizializzazione del programma. Qual è la prima cosa che serve da inizializzare? Ovviamente le dimensioni della canvas. Sappiamo come fare. Size 200,200. Creiamo una canvas quadrata di lato 200 pixel. Di che colore vogliamo il background della nostra finestra? Scriviamo background e vogliamo un background grigio chiaro, quindi diamo un unico numero, 200. Background 200. Poi diciamo di che colore vorremmo che siano riempite le sagome, le shape, le forme che disegneremo. fill 255,0,0. Vorremmo che siano riempite di rosso. Infine, sempre nel setup, possiamo assegnare un valore iniziale alle variabili x e y, alle quantità x e y che avevamo definito sopra. e mettiamo il valore di x, lo assegniamo a 0, x uguale 0, gli assegniamo il valore 0 e a y uguale 0, assegniamo il valore 0. Questo completa un po' il nostro setup. Tutto quello che è incluso tra queste parentesi successive alla paroletta chiave setup verrà eseguito da processing una sola volta all'inizio. Dopo la prima esecuzione, invece, gli aggiornamenti verranno tutti eseguiti e sono tutti i comandi che io racchiudo, isolo, dentro un altro metodo, il metodo draw, D-A-R-A-W, parentesi graffa aperta, parentesi graffa chiusa. Tutte le istruzioni comprese dentro il metodo draw sono quelle che vengono eseguite ad ogni aggiornamento della finestra e che quindi creano una animazione. Che cosa chiediamo di fare dentro draw? Per divertirci scriviamo rect a partire dal punto x y un rettangolo largo 10 e alto 30. Di che colore verrà disegnato questo nostro rettangolo? Verrà disegnato di colore rosso e verrà ridisegnato ogni volta dal comando draw. Ma se ogni volta che lo ridisegniamo, aggiornassimo il valore di x e di y, questo rettangolo ad ogni rinfresco cambierà posizione, verrà disegnato in una nuova posizione. Aggiorniamo quindi il valore di x e di y. Diciamo che x deve essere incrementato, supponiamo, di un certo numero di pixel, 5 pixel. E che y deve essere aggiornato di un certo numero di pixel, 3 pixel, sono ovviamente valori arbitrari. Diamo l'invio e vediamo cosa accade. Se avete notato, molto rapidamente è stato disegnato un primo rettangolo e poi subito dopo tanti altri piccoli rettangoli a coprire il primo. Ma i nuovi rettangoli risultano spostati ognuno di 5 pixel verso destra e di 3 pixel verso il basso. La nostra animazione è servita. Ogni rettangolo appare e copre i precedenti. Ovviamente non vengono cancellati i precedenti. Il comando draw aggiorna la mia finestra aggiungendo nuovi elementi grafici. Abbiamo realizzato la prima animazione di processing del nostro corso. Possiamo dirci abbastanza soddisfatti. Ma se volessimo cancellare il precedente rettangolo ogni volta che mettiamo un nuovo rettangolo, cosa dobbiamo dire a processing di fare? Bene, questo è realizzato molto semplicemente con il comando background. Se guardate, in setup abbiamo messo il comando background 200, che viene eseguito una sola volta. Ma se noi mettessimo il comando background 200, lo togliessimo da setup, quindi lo cancello da qui, e lo inserissimo come primo comando dentro il blocco draw, che cosa accadrà? Ad ogni esecuzione del blocco draw, quindi ad ogni rinfresco dello schermo, il background viene aggiornato. L'aggiornamento del background ha come effetto quello di cancellare qualsiasi disegno. Quindi il successivo disegno del rettangolo rect sarà come se fosse su un foglio completamente nuovo e completamente bianco. Vediamone subito l'effetto. Vedete, sembra che io stia creando un rettangolino rosso che vola attraverso lo schermo lungo una diagonale e evidentemente ad ogni nuovo aggiornamento il precedente rettangolo rosso viene cancellato, il nuovo rettangolo rosso viene disegnato, a causa di quel fenomeno che si chiama permanenza della visione, a noi sembra che il nostro rettangolino venga animato all'interno dello schermo. Usando questo semplice trucco di aggiornare ogni volta il nostro fotogramma dentro il metodo draw premettendo l'aggiornamento del background possiamo creare animazioni via via più complesse secondo quanto ci interessa. Vedremo come farlo in maniera più complessa e più interattiva nelle lezioni successive.